Il Carnevale è libertà, è libertà perché è una possibilità espressiva. Mi chiamo Francesco Lippolis e sono maestro cartapestaio del Carnevale di Coutinia. Io sono entrato negli hangar circa all'età di 18 anni e poi non mi sono più fermato. Ho fatto gavetta per 12 anni sotto maestro e poi ho sentito la necessità di dovermi esprimere personalmente e finalmente questo è l'anno che mi ha permesso di poter realizzare la mia opera. Tutt'oggi non riesco a metabolizzare bene cosa è veramente successo, però è un sogno che in definitiva si realizza. Grazie per la visione!